Quest'anno i Radicanto compiono 20 anni e allora abbiamo pensato di festeggiarli alla grande, invitandovi a partecipare ad un nuovo progetto, a compiere con noi un nuovo emozionante viaggio. Memorie di sale è il titolo del nostro nuovo lavoro discografico. Perché memorie di sale? Perché la memoria è proprio come il mare, non smette mai di restituire storie. Storie passate ma che tracciano, lanciano un ponte verso il futuro. Bene, venite con noi a compiere questo viaggio nella nostra musica, le nostre onde, i nostri echi, i nostri confini labili, perché niente spalanca gli occhi della memoria come una canzone. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Avete la possibilità di lasciare le vostre memorie salire, i vostri ricordi, i vostri pensieri, le vostre riflessioni, aderendo alla campagna di Music Race, in modo tale da poter far parte del nostro viaggio, potervi imbarcare con noi. Le vostre memorie verranno scritte, tracciate sul nostro booklet. Quindi, che aspettate? Venite con noi, fate con noi questo viaggio, fateci dono di voi stessi. Sentire la musica prima di averla ascoltata. Entrate a far parte del nostro nuovo progetto. Diventerete un tassello fondamentale e una parte attiva per realizzare il nuovo album. Ci sono molti modi per sostenerci. Scopiteli su Music Razer.